quasi in open, tra un po' si finisce, rimontaggio all bright della giclipin, 4x4, 12V sul super winch talon, 9.5T, andrea qui appunto siamo? buon punto buon punto, se troviamo la chiave esagonale qua qua stiamo ancora a mezzo, il land rover va eh, però stavolta non è il land rover eh, si dice sempre il land rover si rompe invece, la centrale idrolettica qui c'è un il montaggio è avvenuto il capo annerito del bericello, guarda si è isolato pure qua, non c'è periodo il nero dell'isolamento, non andava nopo a te lo dicevi ci stavano un momento, dove l'ho bussato qua cazzo, i primi? i primi? Eh, quasi un metro Un metro di isolamento. Un metro qua. E non andava bene. E' una bomba di famiglia. Questa è quella stava sotto. Di qua andava bene. Di qua andava bene. Sotto alla macchina si è apposta. Si è isolato un metro dal vericello andava dietro. Ammazza. Il negativo. E il super 15 non andava.